Le associazioni che si mettono a disposizione della comunità... Il pari centro, il servizio istituito in via Montevecchio dall'assessorato alle pari opportunità del comune di Fano, si configura sempre più come un punto di ascolto per ogni problematica di carattere familiare, sociale, educativa, lavorativa, di difficile soluzione, specialmente per una persona fragile. Qui si organizzano incontri con esperti, si danno consigli utili, si indirizzano le persone su percorsi giusti per difendere i loro diritti. Questa mattina è stato presentato il rinnovo della Convenzione con la CGL per due sportelli a cui se ne aggiunge un terzo. Si tratta dello sportello Donne dal mondo a disposizione in modo particolare delle emigranti e dello sportello Nuovi Diritti, che tratta della discriminazione di genere e dell'orientamento sessuale. Il terzo sportello si occupa invece delle lavoratrici domestiche. Presentate dall'assessore Sara Cucchiarini, ne hanno parlato Vania Sciumbata e Cinzia Massetti. Sono tre sportelli che servono per dare consulenza, hanno un primo impatto di informazione alle persone che sono impiegate in lavori domestici e vogliano avere delle conoscenze rispetto ai loro contratti e ai loro diritti. Lo sportello, diciamo, colfa, badanti, lavoratrici domestici o lavoratori domestici. Lo sportello Nuovi Diritti si rivolge a tutti coloro che subiscono per ragioni di sesso e di scelta e di orientamento sessuale delle eventuali discriminazioni nei luoghi di lavoro. E lo sportello, invece, Donne dal mondo è uno sportello migranti che dà una prima consulenza informativa su permessi di soggiorno, normativa sul ricongiungimento familiare ed è rivolto appunto alle donne che vengono da tutti gli altri paesi del mondo. I primi due sono già attivi e quindi è una conferma di un progetto che portiamo avanti insieme al Comune di Fano. Il terzo è una sperimentazione che abbiamo pensato di iniziare per allargare quanto più possibile la consapevolezza dei diritti. Siamo presenti il martedì una volta al mese, è possibile prenotarci anche online e quindi anche comodamente si può prenotare un appuntamento, un colloquio o avere un riferimento dove rivolgersi. L'Ufficio Nuovi Diritti della CGL si occupa di discriminazioni, in particolare in ambito lavorativo. Le casistiche più diffuse sono quelle delle microaggressioni in ambito lavorativo che è una nuova figura per cui viene dileggiato e che possono causare anche un notevole disagio psicologico alle persone. Non a caso l'Istat nel 2022 ha fatto uscire la prima inchiesta in questo senso dove risulta che 6 persone su 10 in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere hanno subito microaggressioni in ambito lavorativo, una su tre hanno avuto in ambito lavorativo a meno un episodio di discriminazione vera e propria. Il 68% di persone con un diverso orientamento sessuale o identità di genere hanno paura di tenersi per mano per strada con il o la propria partner per paura di subire violenza. Questo dà il portato. Ecco perché abbiamo voluto essere presenti anche in questo centro delle pari opportunità che si trova al centro della città e non è un caso perché la città se ne deve far carico. Le istituzioni infatti hanno l'obbligo, come dice la nostra Costituzione, di rimuovere quegli ostacoli di ordine pratica, economico e sociale che di fatto impediscono la piena cittadinanza delle persone, di agire la propria personalità.